Ciao a tutti, eccomi qua, sono davanti a una casa che è fatta col super bonus 110 e vedete qua ci sono i pannelli di polistirene che viene usato, i centimetri secondo me un 10 forse un 15, li vedete qua, polistirene grigio ed è stata fatta tutta, c'è il polistirene bianco qua sotto, solo all'inizio, probabilmente è un materiale apposta per l'umidità, non me ne intendo comunque lo spessore lo vedete è questo qua e poi verrà intonacato con il toner C apposta e questo è praticamente un isolamento esterno con super bonus 110%, poi i costi non li so però è così che vengono fatti tutti con il polistirene. Bene io vi saluto, ciao a tutti